Ciao a tutti amici, come avete dormito stanotte? Ma Simona, perché questa domanda? Beh, comunque male, ho dormito male come al solito, anzi adesso vado a bermi un caffè. Ai ai, anche tu fai parte della metà degli italiani che soffre di disturbi del sonno? Magari degli oltre 9 milioni che soffrono di insonnia cronica? Un bel problema! Sai, ho chiesto com'è andata la notte perché oggi è la giornata mondiale del sonno, la World Sleep Day. E io sono qui per svelarvi la mia routine per un buon sonno, quella che seguo ogni notte prima di dormire, che mi aiuta non solo ad addormentarmi subito, ma anche a svegliarmi rigenerata, pronta per partire fresca e riposata. Grazie Simona, questo è un video bonus allora. Se la seguirete potrete ottenere un buon sonno ristoratore anche voi, ogni notte. Eh, sarebbe bello addormentarmi subito questa notte, ma con tutti i caffè che ho preso, certo, ce la farai. I miei 5 consigli sono semplici ed efficaci e in più li potete seguire ovunque, anche se il partner già dorme, perché non sconvolgono i ritmi della casa. E vi dirò anche due segreti sul sonno che pochissimi sanno. Ecco il primo segreto. Decidete sempre l'ora in cui volete andare a dormire, per organizzare i tempi della vostra routine. La ricerca dice che dovremmo essere tutti sotto le coperte entro la mezzanotte. Solo così possiamo rispettare i ritmi naturali del sonno e della rigenerazione, il famoso ciclo circadiano. Ci avete mai pensato? I ritmi naturali sono collegati al giorno e alla notte, ossia alla rotazione della terra su se stessa e intorno al sole. E valgono per tutto il mondo naturale, le piante, i fiori, gli animali e anche per noi uomini che ancora non siamo dei robot. Siamo esseri naturali. E allora siete pronti per dormire meglio? Ecco il mio primo consiglio. Create un rituale che predispone al sonno. Io ho creato la mia routine quando viaggiavo spesso, accompagnavo i maggiori esperti di Ayurveda dall'India all'Italia e ritorno. Ho messo insieme i cinque consigli di oggi anche per contrastare il fuso orario e non mi hanno più abbandonato. Il mio rituale è semplice. Cambiarmi, bere una tisana rilassante con una musichetta tranquilla in sottofondo, sfogliare una rivista o scambiare due chiacchiere tranquille in casa. Nel frattempo in camera accendo una candela profumata o un diffusore di oli essenziali con fragranze calmanti come la lavanda o l'arancio dolce. È importante rilassarsi prima di dormire. Creare una zona cuscinetto per non portare le tensioni nel sonno e dormire agitati senza rigenerarsi. Allora buonanotte. Il secondo consiglio è evitate di guardare televisione, pc, tablet, smartphone almeno 30 minuti prima di dormire. Tutti gli schermi producono una luce blu che allerta il sistema nervoso e disturba il sonno. Ah, ciao tesorino, ci vediamo domani. Ciao, ciao, ciao. Leggete piuttosto una paginetta di un libro, è importante come spiego in questo video. Come terzo consiglio, fate una lista delle cose da fare per il giorno dopo. Scusa Simona ma se le devo fare domani queste cose perché devo pensarci prima di dormire? Per evitare di svegliarsi con l'ansia di non ricordarsi tutti gli impegni. L'ansia rovina il sonno anche se non ce ne accorgiamo. Gli studiosi hanno scoperto che il cervello durante la notte mette in ordine la memoria e se noi lo aiutiamo un po', lui in cambio ci aiuta a dormire meglio. Facile, no? Il quarto consiglio è utile se le cose da fare invece vi mettono ansia. Vi capita mai? A me sì se penso a tutte le cose che devo fare domani. Tranquilla. Invece di fare una to-do list, fai un elenco delle cose che hai concluso oggi. È anche un ottimo modo di fare pace con la giornata e rendere il sonno più riposante. In altre parole, bisogna chiudere fisicamente con la giornata che sta per finire. E questo ci porta al quinto consiglio. Prima di addormentarvi esprimete gratitudine alla vita per tre cose diverse ogni giorno. Come spiego in questo video. È il modo migliore non solo per dormire felici, ma anche per vivere felici. Allora io sarò grata perché avrò il mio meritato riposo, finalmente. Brava! E fatelo anche voi, amici. Intanto, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Nel mio sito, all'indirizzo riportato qui sotto, trovate lo schema per organizzare la vostra routine della buonanotte con una infografica sulle ore di sonno raccomandate dall'OMS per ogni fascia di età. Usate queste risorse, applicate i 5 consigli, create la vostra routine della buonanotte e, se vi chiedono come hai dormito questa notte, fateli vedere questo video. Nel mio canale trovate tante altre risorse sull'insonnia e per dormire bene. Per vederle tutte è facile, basta iscriversi con un click, così. E attivate le notifiche. Ma Simone, il secondo segreto? Ah sì! Vi ricordate i dischi che avevano due lati, il lato A e il lato B? Ecco, anche la nostra giornata ha due lati e il lato B è il lato del sonno. Le ricerche hanno dimostrato che dormire non serve solo a riposarci, in senso generico. Il sonno di notte rimette a posto quello che di giorno la vita ha scompigliato nel nostro corpo. Le attività di una giornata sono divise in tre cicli di otto ore ciascuno. Otto ore per il lavoro, circa. Otto ore per spostarsi, svagarsi, mangiare, fare le proprie cose. E otto ore per dormire. Ma dormire bene è quello che permette di fare meglio le altre attività. È il vero segreto della salute. Ora che lo sapete, condividete questo video con i vostri amici, così anche loro potranno dormire meglio. E noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! Ciao tesorino, ci vediamo da bene. Ma che? Manco io!